Rossano Rubicondi era nato a Roma il 14 marzo 1972, si trasferì a Londra a 22 anni e iniziò a lavorare prima come modello e in seguito come attore. La svolta e la fama arrivarono grazie al matrimonio con Ivana Trump nel 2008. Questo evento lo rende famoso nella televisione italiana portandolo direttamente all'isola dei famosi dove si parlerà di lui principalmente per aver trascorso una notte con Belen mentre lei era fidanzata con Borriello. La scoperta di un melanoma cutaneo è arrivata come un fulmine a ciel sereno, le cure seppur molto pesanti non sono bastate per salvargli la vita, se ne va a 49 anni lasciando un meraviglioso ricordo di lui. Grazie a tutti! Grazie a tutti!